E' alido? No, sta a vincere Daniele! Ma che sai di aglio? Che schifo! Veramente! Il Dixon! Yolanda Switch! Hello everyone! Rieccoci tornati con un nuovo video! Come state? Spero tutto bene come avete passato questa vostra giornata. Spero bene. Oggi che cos'è? È martedì. Oggi è martedì. Buon martedì come avete passato la vostra mattina. Fatecelo sapere giù nei commenti. Allora ragazzi, oggi sono con Daniele. Perché praticamente andremo a fare una nuova sfida. Una nuova challenge con le nuove candy surprise. Quindi le nuove caramelle dei miei contro te. Lasciate un bel pollice in su se vi piacciono questi video. Se volete altre challenge magari con queste caramelline. Oppure che ne so, io ho già in mente dei video per riutilizzare. Carina questa cosina. Sì, i barattolini sono molto carini. Per riutilizzare questi barattolini. E sono azzurro e rosa. Uno di lui e uno di Sofia. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche. Ovviamente prima di iniziare questo video facciamo un bellissimo gioco. Facciamo il gioco, vediamo, indovina la parola. Che da un po' che non lo faccio. Vi ho fatto sempre indovinare immagini. Ma oggi facciamo. Oggi parola, vai. Indovinate la parola. Allora, vediamo. La parola di oggi è inerente a questo video ed è questa. Uno, due, tre. Quanto sono? Sono 2,99 euro l'uno? Sì, 2,99 euro a ciotolina. Scatolina, esattamente. Le caramelle arancioni che sono arancia succosa o crocchette di Ray. La gialla e il limone fresco o alito del signoresse. Oh maronna mia. Poi, mela verde o dentiera della nonna. Le caramelle di nonna. Esatto. Quello blu e calzini di lui o mora di montagna. Quella viola, pappa di Sofia o frutti di bosco. Quell'arancione, puzzetta di chila o fragola. Oh mamma. Ah no, è rossa, sì. Puzzetta di chila o fragola gustosa. Ragazzi, conviene comprare... Due scatoline. Esatto, così avete tutti i colori. Esatto. Perché qua ci sono dei colori in quella di Sofì e in quella di lui ce ne sono altri. Mi è venuta un'idea? Diga. Mi è venuta un'idea? Eh. Che per ogni ingrediente brutto che... Facciamo unito allo slime. Che per ogni ingrediente brutto che becchiamo, mettiamo un ingrediente brutto nello slime sempre in questo video. Sasso, carta, forbici. Sasso, carta, forbici. Nooo. Era meglio che... No, voglio che inizi tu. Scelgo io, quindi inizi tu. Ah no. Aiuto. Lui. Allora, no. Verde. Mela verde o l'ingrediente della nonna? Marò. Allora, vai. Mela verde o l'ingrediente della nonna? Vai. Prendo questo. Daniele prende una caramella brutta e l'ingrediente brutta dello slime. Non voglio mangiare l'ingrediente della nonna. Vai. La scelgo io, ovviamente, l'ingrediente brutto. Allora, fazzoletti a te. Oddio, dobbiamo dire sempre queste cose strane. Mela verde. Quale branding e l'ingrediente è bello per lo slime? La schiuma da barba. La schiuma da barba. La colla è di base, quindi schiuma da barba. Ok, va bene. Ok. Fragola gustoso puzzetta di Kira. Visto. Puzzetta, puzzetta, arancia, con la puzzetta. Tenete il conto poi di... Quindi non andiamo a punteggi noi. Verde. Verde di nuovo. A me uscite il giallo. A me me la verde. Di nuovo. Un'altra volta, ma sei sicuro? Scegliti l'ingrediente. Crema. Ehm, limone fresco alito del signore S. Amaro. E' alito? Sì. Pop, 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 pop. Cosa scegli di schifoso? Ma non me lo devi scegliere tu. Colla glitter nera. No. Vai. No, sta vincendo Daniele. Scusi, bosco o pappa di Sofì? Pappa? Pappa di Sofì? Non la so. Pappa di Sofì? Che gusto è la pappa di Sofì? Non lo so. Sì. Vado. Vai. Non allusare. Qual è la riuscita? Frutto di bosco. Non ci credo che prendi solo frutto. Veramente? Questo? Veramente? Ma che sa di aglio, che schifo. Veramente? Mamma mia. Ma la casa di aglio, che schifo. Sofì, ma ti mangi la pappa con l'aglio? Ti mangi. Perché Sofì si mangia la pappa con l'aglio? Oddio, Daniele sta bene. Facciamo cinque, dai. Sono qua a finire le cose brutte cose. Allora, io ti scelgo il Dirk San. Pappa pappa. Verde. Ora tocca la mele verde. Ok. Basta. Ricordiamo che è mela verde o dentiera? Ma è mela. È mela, è tutto mela. Che cavolino. Ma no che? No ragazzi, ve lo giuro. Ah, vabbè, tu mi hai scelto la colla grittiera. Ma colla è nera, quindi colla è non utile. Colla nera, colla, non lo so. Quindi? Mi scelgo le palline arcobaleno. Ragazzi, non ci credo. Quindi? Quindi? Blu. Che schifo. Mora di Montagno calzini di Luì. Ciao Luì, assaggeremo, Daniele forse assaggerai i tuoi calzini. Calzini, 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 calzini. Prego. Calzini, calzini, calzini. Calzini. Sì? Calzini. Sei sicuro? Calzoletto, ce l'ho io. Quindi? Io ti scelgo? Ma come puzza? Mamma mia. Allora, io ti scelgo il sapone per i piatti. Mamma mia, mi hai rovinato uno slime. Giallo. Ho preso due orribilanti. Allora. Grazie. Limone fresco, alito del signoresse. Eh, beccalo sto alito. Beccalo l'alito, beccalo l'alito. Madò. Lo so di cipolla, cos'era? Mamma mia, sei una bomba ecologica. Hai sentito, hai sentito? Vada dentro. Quindi l'ingrediente è brutto. Ragazzi, c'è di aglio. La neve è finta. Ok, cos'è? Giallo, anche te, ho limone e ho alito del signoresse. Ti ho già beccato l'aglio. Hai tre possibilità. Alito. Si sente subito se è l'alito perché sa di aglio. Limone, limone, ma quanto è bello il limone. Ok. Non è giusto. Delle penne colorate, generica. Vabbè, ragazzi. Per affanare un po' che me l'ha rovinato. Ok, io non so chi abbia vinto, chi abbia perso, ce ne accorgeremo degli ingredienti brutti e cattini. Intanto andiamo a prendere le cose per fare lo slime. Allora, ci siamo dimenticati di fare un round con Yolanda. Va bene. Allora, facciamo una cosa. Facciamo sassocarto forbici. Ok. Vediamo se... Io e l'ingadente è brutto. Se esci tu è buono. Si, se perdo me lo scegli più. Non sai che ti darò un ingadente bruttissimo se esce a me. Vabbè, non fai niente. Vai. Sassocarto forbici. Sassocarto forbici. Sassocarto forbici. Sassocarto forbici. Sassocarto. Allora, vedi che c'è uno slime lì sopra? Usalo. Quale? Quello verde. No. Ragazzi è scioltissimo. Ok dai, cominciamo. Ok. Allora, cominciamo con la golla. Io parto proprio da questa se proprio lo vuoi sapere. Datta, è cola, scusate. Ti ho fatto un favore? Sì. Che no, grazie, cosa orribile ho detto La prossima volta mi vendi Ragazzi, ma secondo voi è normale che io debba mettere la colla glitter nera in uno slime? Certo, Yolanda Allora, gli metto già un po' di Dixan Ok, il sapone per i piatti, ovviamente, Yolanda, immancabile Mettilo, mettilo Come questo? Potete metterlo? Mettilo Sei ingiusta Non mi interessa Che sono buono, Ponte Sì, eh, come no Slime sciolto e pazzoletto Ragazzi, ho ancora il sapore di calziduli in bocca Necessito No, della poppa di Sofì Mamma mia, Sofì che mangia l'aglio, incredibile E quindi necessito di un restauro Ok, allora, questo è il mio slime Ah, ragazzi, guardate Che belle ste palline Ok, allora, ragazzi, io metto l'addensante e inizio a mescolare Mi sta addensando, ah, che schifo Anche se il mio era già abbastanza denso Perché lo slime puzzolente che ho messo dentro era già molto denso Mettilo poi di Dixan Vediamo un poco Ti amo Ok Vado a mescolare Tu, nella sfortuna Eh? Tu, nella fortuna volevi fare lo slime bello Ma in realtà ti è uscito No, non è brutto Aspettate A me invece è uscito questo colore Anche se il colore non è dei migliori Sembra lo slime di Elsa Il mio sembra lo slime del signoresse Di Olaf No, te più signoresse Sì, a me lo slime del signoresse Ma a te è venuto bruttissimo Non è vero, non lo sottovalutare Ok, allora, il mio slime è questo Molto crunchy Oh, raga Perché bene, se è denso col Dixan È normale che viene una schiazza Ragazzi, allora, il mio slime è venuto bellissimo Nonostante tu volessi sabotarmi Il mio slime è venuto invece una meraviglia A me è venuto una pietra Oh, fai Hai messo troppo Dixan Ma che Dixan è brutto Lo sai pure tu Guarda, hai venuto una pietrona Questo lo sai del signoresse È brutto Il mio slime invece è venuto benissimo Guardate Che meraviglia Ok, allora Grazie mille a tutti per aver visto questo video Senti Però, però, però Però Non è niente Spero tanto che questo video vi sia piaciuto E intrattenuto Ovviamente strappato un sorriso Alla fine, secondo voi, chi è andato meglio? Daniele? Oppure io? Fortuna, cioè Ha preso le tre schifezze del mondo E ha vinto Eh, scusatemi Vabbè, non è che ho vinto Mi è venuto lo slime migliore Ha il colore Guarda, è un grigio Metallizzato Glitterato Esatto Smettila Io vi mando un bacione Un abbraccio E noi, come sempre, ci vediamo domani Alle ore 14.30 Con un nuovissimo Video Bye Bye Bye